Italia Unse Da lunedì 29 giugno alle 14.30 su Italia 1 Signore gesta, scusi, ma devo proprio tenerle queste orecchie d'asi Certo, lei ha tanto da imparare di televisione Quando se lo meriterà, gliele toglierò E adesso stia attento, perché mio nipote ci spiegherà i nuovi programmi di Bim Bumba Vai Ivo! Ecco il grande professore, mago di televisore Adesso c'è cosa faccio? Taglio lo striscione pronto per l'inaugurazione Vai! Ah ah! Ore cinque, ore cinque la mattina Noi facciamo ginnastichina Uno due Uno due Sarei lento come un bue Forza, allora si sbriga Uno due, ginnastica, forza, forza, forza Ma chi vuole che interessi fare ginnastica la mattina alle cinque? Interessa lei in questo momento, faccia ginnastica Poi impariamo la mattina a montare la tendina Montaggio tenda Forza, montaggio tenda Cosa? Montare tenda Deve montare la tenda, si sbrighi, vado a montare la tenda Ma come? Uno dei sei si mette a montare le tende Montare la tenda E si montano le tende, forza si dia da fare Andiamo a montare la tenda Ma hai già montato? Ecco giunta E allora è sui dentro, vada, porta la usi Ecco giunta per diretto, l'ora giusta Lo scherzetto Dov'è una spazzatura a portare via, signor Ivo? Dai, sento qua, via, 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 via Ma cosa fai? Oh, un divertitissimo! Aiuto! Aiuto! Ma dove andata? Aiuto! Bravo Ivo! La tua programmazione è bellissima! Cosa ne pensa Baby Medio? Guarda, guarda! E bravo Ivo, servio di Ivo, bravissimo! Un successone, bravo! E vai! E adesso ho ancora un bel cartone pronto per la televisione! E un grosso salutone!